Giviborgo spettacolare e forte, nonché meritatamente campione d'inverno. È la notizia di un girone di andate, di una prima parte di campionato che ha visto la squadra di Guido Pagliuca protagonista assoluta. Peccato che fatto 40, Nolè e compagni non siano riusciti a fare almeno 41, ma per fortuna la sconfitta, peraltro immeritata di Gavorrano, è stata in dolore, per quanto può essere un passo falso come quello consumato sin terra maremmana. Fortuna ha voluto che contemporaneamente anche tutto cuoia d'Agliana e Ponsacco al Fedini di San Giovanni Valdarno siano a loro volta cadute. Ne consegue una classifica e mutata al vertice, col Giviborgo campione d'inverno e le rivali a ruota della squadra del presidente Nieri. Le altre, dall'Aquila a Montevarche al Seravezza e compagnia viaggiante, hanno distacco già importante. Un primato meritato, dove si consideri che il Givi vanta anche il capo cannoniere del campionato, Ortolini, 15 reti alla pari di Rodrigues del Seravezza, il secondo miglior attacco, 32 reti, la seconda miglior difesa, 17 gol subiti, sempre alle spalle del Ponsacco. Ma il Giviborgo, rispetto alle avversarie, ha giocato 10 partite in trasferta e 9 in casa, e quindi, seguendo la vecchia media inglese, il vantaggio potrebbe diventare anche più cospicuo. Se ne riparlerà con il nuovo anno, il 6 gennaio tornerà infatti il campionato, con la ventesima giornata, prima del girone di ritorno. Avversario ostico per la squadra di Pagliuca, che allo stadio delle terme di Bagni di Lucca, se la vedrà con l'Aquila a Montevarchi, interlocutore scomodo che andrà affrontato con la massima concentrazione. All'andata, il Brili Peri finì 1-1 con vantaggio iniziale firmato dal solito Ortolini, ma dopo aver sfiorato il raddoppio, il Givi si fece raggiungere nella ripresa da una rete di Salvadori.